buongiorno a tutti sono monica tosetti benvenuti nei lati di tosetti di como dal 1927 vestiamo i matrimoni più belli ed eleganti del lago di como ma anche della svizzera e da quest'anno anche un po in giro per tutto il mondo abbiamo le collezioni di migliori brand da sposa ma anche una nostra collezione che creiamo con tessuti med in italy con le sette di in como quindi realizzati interamente a mano a cui possiamo dare anche l'esclusiva del modello per la sposa nel caso dovesse richiederlo in casa abbiamo le collezioni di rosa clara di aria in barcellona di nicola di galvan e poi questa particolarissima collezione nostra e dal 2023 avremo anche la collezione gaga che sarà proprio un luxury lake como in cui ci saranno dei tessuti realizzati appositamente per la cliente quindi anche il tessuto sarà realizzato in esclusiva in atelier diamo molto importanza anche al bambino e anche la cerimonia sia per la bimba che per la cerimonia dedichiamo uno spazio dove ci sono dei capi realizzati in esclusiva quindi dei capi che la cliente può far realizzare per sé trova qualcosa di già pronto ma comunque che difficilmente poi potrà trovare sul mercato quindi diamo questo plus di avere un abito unico questo invece è lo spazio dedicato agli uomini quindi allo sposo dove può trovare degli abiti dei migliori brand anche in questo caso ma anche degli abiti realizzati su misura ma anche per il papa della sposa o i testimoni o chi ha un evento particolare da uomo abbiamo carlo pignatelli andrea versali giuseppe rocchini petrelli e anche in questo caso una linea realizzata da noi su misura e con dei tessuti medi in italy medi in como ci potete trovare su tutti i nostri social instagram facebook come tecchi brand oppure su nostro sito online www.tecchi.com.com vi aspettiamo musica